Abbiamo consegnato il disegno di legge sul diritto allo studio, una proposta che ci viene consegnata dai giovani democratici e che mette al centro il ruolo della formazione e del diritto allo studio. Centrale in ragione delle risorse che sono state previste dal PNRR che hanno come tema principale o tra i temi principali quello di aggredire i divari, salvaguardare il capitale umano e dunque investire sul mondo della formazione. Un testo unico, complesso e articolato che tocca tanti aspetti del mondo della formazione, della scuola e del diritto allo studio, dall'accesso al materiale didattico fino al tema dei trasporti, dalla questione dell'indirizzo e della programmazione in tema di edilizia scolastica fino ad arrivare alle barriere architettoniche e al tema sempre presente del digital divide. Insomma un testo unico che mette al centro il ruolo della formazione e che avvierà nel corso dei prossimi mesi un vero e proprio confronto con tutti i portatori di interesse. Con questa proposta il Partito Democratico e i giovani democratici si rendono protagonisti di uno degli elementi più importanti, il tema della formazione del capitale umano che verranno appunto aggredite con le risorse del PNRR nei prossimi mesi. Grazie.